Hausen Insieme Cultura e Solidarietà è la nostra associazione che è nata nel 1989 e si propone di contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita e migliorare anche, diffondere la pratica della solidarietà e valorizzare l'esperienza degli anziani. Le nostre proposte sono rivolte prevalentemente agli anziani e con gli anziani e mai aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, tra nazionalità e culture diverse. La nostra associazione in questi anni ha portato avanti degli obiettivi atti alla coesione degli anziani e con varie attività, soggiorni marini, gioco di carte nei pomeriggi, lavori a maglia, ginnastica dolce, pranzi sociali Durante l'inizio della pandemia è istituito un servizio di accompagnamento per le persone fragili per accompagnarli alle visite mediche, terapie e vaccini. La nostra associazione si trova in Via Matteo T2 a Darpigliano. Noi siamo aperti al mattino dalle 10 alle 11 e tutti i pomeriggi, escluso sabato, dalle 15 alle 18. Iscrivetevi all'Houser perché noi abbiamo tanto da darvi.